ciao a tutti ragazzi oggi approfitto del caldo e del sole per portarvi nel comune di Forgaria nel Friuli alla scoperta del lago di Cornino e non solo ho lasciato l'auto in uno dei parcheggi poco lontani dal centro visite peraltro lì attaccato c'è anche un piccolo parco per i bambini quindi adattissimo alle famiglie ma invece di andare direttamente al lago come potete vedere vi propongo un breve anello sono circa tre chilometri più o meno poi a fine video scoprirete quanto ho camminato che vi porterà a scoprire anche la natura che circonda il greto del tagliamento qui appunto dal parchetto sono su un sentiero di erba tagliata in mezzo ai prati come vedete dietro di me c'è il sentiero tagliato e adesso mi ricongiungo a quello che è quella che effettivamente la strada che mi porterà quello che è il sentiero che appunto mi porterà al greto la riserva è stata istituita nel 1996 e comprende una buona fetta di territorio nei comuni di Forgaria nel Friuli e Trasagis compresi circa 7 chilometri di fiume che proprio per questo ho deciso di includere nella mia escursione il fiume ovviamente non sta a me dirlo è un piccolo gioiello di biodiversità che funge da corridoio ecologico per il transito di numerose specie sia animali se avete fortuna ne potrete beccare alcune ma dubito perché appunto sono piuttosto schive non abituate al alla presenza dell'uomo sia vegetali che in primavera sono decisamente nella loro veste migliore peraltro guardate qui c'è quella che è la roggia che poi si ricongiunge vi da degli scorci bellissimi anche se ancora non siamo al lago se c'è acqua e volete rinfrescarvi potete tranquillamente addentrarvi verso il greto c'è un'infinità di posto difficilmente lo troverete affollato almeno in alcuni punti un po' particolari ovviamente più vi avvicinate al lago più ci sarà gente questo è quello che succede ogni tanto con il tagliamento io dovrei passare di qua ma ovviamente non non è percorribile a meno che anche perché c'è un bel po' di corrente per cui si torna indietro lo vedrete appunto su ReLive in teoria però c'è modo di passare se non c'è troppa acqua in fondo al video vedrete che ho girato un pochino alla ricerca di un modo per tagliare diciamo così però decisamente non ho l'abbigliamento adatto non sono venuta sapendo cosa dovevo fare più o meno sostanzialmente perché il percorso lo conosco già sono venuta in scarpe da ginnastica e pantaloncini corti per cui non avendo l'abbigliamento adatto non sono andata ad infrattarmi in giro e mi limiterò a tornare indietro e prendere quello che dovrebbe essere il sentiero un attimino più breve per cui se lo fate da soli mettete comunque in conto la possibilità di dover cambiare strada appunto perché il tagliamento si muove questo qui è il sentiero dal quale avrei dovuto sbucare in realtà sono arrivata da questo di qua la parte appunto nell'area del tagliamento sarebbe stata piuttosto breve in realtà poi l'ho allungata ovviamente ma si arriverebbe molto presto rispetto al punto dove mi sono fermata a quella che è a quello che è il percorso che costeggia il lago di cornino ho fatto una piccola deviazione sul punto panoramico che però è bellissimo ma attaccato letteralmente alla strada quindi c'è molto passaggio e sì c'è una bella vista però un po' disturbata da quelle che sono da quello che è il passaggio delle auto peraltro tantissima gente si ferma per cui è anche difficile farsi delle foto in santa pace ho fatto anche una piccola deviazione proprio sul bordo del lago qui ho giusto l'acqua ho approfittato anche per farmi per mangiare e vi parlo anche approfitto anche del fatto di essere in un posticino un pochino appartato per parlarvi del lago che è un piccolo lago alpino con acque molto molto limpide come potete vedere incastonato in quella che è un conca glaciale che ha avuto origine durante il ritiro dei ghiacci intorno ai dieci mila anni fa che ha verso appunto al sito anche l'entrata tra i nella lista dei geocity il lago supera appena i 140 metri di lunghezza e gli 8 metri di profondità non possiede né immissari né emissari ma riceve un continuo ricambio idrico dalle falde sotterranee che gli permettono di mantenere per tutto il corso dell'anno una temperatura costante intorno ai 10 gradi centigradi oltre alla sua caratteristica limpidezza il lago è anche povero di sostanze nutritive per questo la fauna è scarsa tranne per un piccolo punto in cui ho immerso la gopro che vedrete adesso interessante è però la presenza del gambolo di fiume che è una specie piuttosto rara in friuli il fondo invece è popolato da alghe azzurre e verdi peraltro se siete in zona nel periodo di natale il lago fa da cornice al presepe galleggiante e il giorno della vigilia durante la messa di mezzanotte che in realtà è un tempo prima un gruppo di sub si immerge per far nascere dal fondale il bambin gesù e posizionare la sua statua al centro del lago appunto attorniata dagli altri figuranti del presepe vi consiglio anche di salire su quella che è la terrazza panoramica quella che per raggiungerla si fa un pochino di fatica in più che si apre sul gretto del tagliamento e le alpi carniche e da qui potrete osservare anche la bifauna che domina i cieli dell'area in particolare durante i periodi di migrazione come ora in primavera e in autunno inoltre le rupi del monte prat forniscono anche ripari e siti ideali per la nidificazione di numerose specie di volati come il gufo reale animale simbolo della riserva che però è più famosa per la reintroduzione in natura dei grifoni vicino al lago ci sono anche il centro visite della riserva e le voliere che ospitano alcune specie di uccelli che sono stati recuperati e che non sarebbero in grado di vivere in natura ci sono anche cervi e vipere quelle dal corno se le riuscite a scovare sono all'interno di una teca non dovrebbe essere difficile in teoria da qui si può anche osservare il carnaio sito nato per alimentare i grifoni meglio però se vi portate un binocolo il sito però comunque vi dico che è l'unico sull'arco alpino e ha lo scopo di smaltire di sia alimentare i grifoni ma anche quello di diciamo smaltire le carcasse dei maiali che provengono dai prosciutifici san daniele letteralmente a due passi e quelli della fauna investita fauna selvatica investita attrae oltre ovviamente non solo i grifoni ma anche altre specie rare a livello nazionale come il nibbio mentre vi faccio scorrere quello che è il videino dire live con la traccia gps appunto del giro che ho fatto vi ricordo di lasciare un bel like se il video l'avete trovato interessante e utile commentate facendomi sapere se passerete da queste parti nel futuro e condividete il video con qualcuno che vorrete che vi accompagnasse appunto in questa vostra avventura per sostenere invece in maniera più diretta il canale puoi abbonarti a meno di un caffè al mese ottenendo anche dei vantaggi ovviamente come l'accesso anticipato ai video oppure puoi fare una donazione di quanto ti pare sostanzialmente cliccando il tasto grazie qua sotto in ogni caso ti ricordo anche di iscriverti al canale attivando anche la campanella per non perderti l'uscita dei video cercherò di tornare più costante ho saltato qualche pubblicazione nonostante tutto e se volete sapere in anteprima dove vi porterò con i prossimi video cliccate qui sotto ci sono in descrizione ci sono i link a tutti i miei social per seguirmi appunto in diretta in particolare instagram ma anche sulle storie di facebook detto questo io vi saluto e come al solito ad ogni fine video vi dico have a nice life